Buongiorno nuovamente, ieri come già avevo detto appena iniziato che sarebbe caduta la telefonata perché la carica non dura tanto, è un telefono un po' vecchiotto, però diciamo che avevo chiesto, avevo pregato affinché potessi parlare e raccontare con molta emozione quello che ho raccontato, questa meravigliosa meraviglia che il Signore mi ha permesso di vivere, il nostro Signore Gesù Cristo, che sempre più potentemente sta inviando lo Spirito Santo per veramente elevarci e sostenerci in questo tempo. E quindi ecco che ieri ho raccontato questa parte della mia vita importantissima dove ho ritrovato il bandolo cosiddetto della matassa e quindi finalmente ho potuto comprendere chi è veramente Gesù Cristo e sentirlo dentro di me e quindi poter poi, spinta dallo Spirito Santo, nuovamente aprirmi e parlarti, parlarvi perché è quello che dobbiamo fare. E quindi nell'attesa che Lui torni, perché è già qui, ma tornerà nella gloria, per finalmente creare il suo regno su una terra rinnovata, risanata con coloro che hanno compreso e sono ritornati attraverso questo cammino entrando per la porta stretta, che è proprio il lasciare tutte le cose del mondo inutili che poi alla fine ci portano a grande sofferenza perché portano alla morte di tutto, fisica, spirituale e dell'anima perché il diavolo vuole la nostra morte mentre Cristo Gesù ha dato la vita per darci la vita. E' sempre una commozione parlare di questo perché, come dire, dopo tanto silenzio perché avevo fatto questa... 40 giorni Ciao Tonino 40 giorni di deserto in cui ho avuto un Covid leggero e il Signore mi ha detto va bene che tu lo faccia così adesso sei vaccinata ma leggero però il processo fu forte perché si mostrarono tante oscurità che negli anni avevo accumulato vivendo qui sappiamo che abbiamo a che fare ogni giorno con situazioni difficili e quindi essendo nel peccato costante che sarebbe la deviazione costante può essere difficile, sì se non molto difficile ma quando veramente prendiamo questa mano del Signore di Cristo Gesù che veramente c'è e ci strappa via da questa situazione e seguiamo lo seguiamo ecco che allora ci svuotiamo lui ci aiuta a... con la spada doppia lama che quindi entra e tira su quello che dobbiamo lasciare e poi con la doppia lama la seconda lama va ancora più in fondo per tirare su proprio ribaltare come un calzino tutto l'inconscio le cose accumulate ed è un processo con lui meraviglioso ed è ancora più meraviglioso poi se ci uniamo altri fratelli che fanno questo e quindi quando ho finito questi 40 giorni ho chiesto al Signore ho chiesto perché sentivo nel mio cuore dato che quando siamo in Cristo Gesù siamo nel corpo il cosiddetto corpo di Cristo lui è la vita noi siamo i tralci siamo tutti comunicanti allora sentivo la presenza di questi fratelli ma dicevo Signore non sono nelle chiese ufficiali anche se qualcuno è lì ma è un grande tradimento queste chiese e prego preghiamo per loro perché possano veramente incontrare il cammino di Cristo Gesù quello che ha lasciato del Vangelo vero allora chiedetevi sarà dato quando chiediamo con tutto il cuore quando la nostra anima ha sete e fame di Dio in Gesù Cristo Mediatore all'Altissimo ecco che allora la risposta arriva non può non arrivare noi che siamo genitori se un nostro figlio ha una necessità gli diciamo di no possiamo casomai se questo desiderio è chiesto collego con voglio voglio no con una con un una inutile richiesta Dio guarda nei cuori e quando la richiesta è fatta con tutta l'anima sincera ecco che bam la risposta arriva è sempre più rapida mano a mano che hai questa relazione con Dio con Gesù Cristo ecco che allora ho chiesto dove sono questi discepoli di atti degli apostoli dove andavano mettevano le mani e curavano nel nome di Gesù Cristo scacciavano i demoni e parlavano del Vangelo a tutti coloro che incontravano liberandoli da in nome di Cristo perché non siamo noi che agiamo è Dio sì ecco che sia fatta la tua volontà attraverso di noi ecco che allora me li ha fatti incontrare questi discepoli ora che è la chiesa che è nella profezia è scritto che negli ultimi tempi che siamo risorgerà la chiesa delle origini quella voluta da Gesù Cristo che in Marco 16 lo dice bene che dice appunto andate per tutte le nazioni battezzate dopo che si sono pentite le persone metterete le mani e si cureranno nel mio nome e scaccerete i demoni e quindi ecco che li ho incontrati e sono sparsi quando chiedete li incontrate e ho incontrato coloro che sono il primo incontro fu un video un video che mi inviarono di un fratello che è stato il precursore Dio l'ha mandato avanti per aprire questo Torben si chiama che quindi ha fondato The Last Reformation la ultima riforma è meraviglioso io quando ho visto questo video continuavo a piangere a piangere lo trovate andate in Youtube The Last Reformation ci sono i sottotitoli poi adesso c'è The Last Reformation Italia anche in Facebook che stanno traducendo tutto e poi ci sono anche altri discepoli che ho conosciuto che adesso sto vivendo con loro sì vivendo nel senso il discepolato ci vediamo ci incontriamo chiesa in casa aiutiamo le persone scacciamo i demoni ed è meraviglioso perché quando due o tre siete uniti nel mio nome diceva Gesù sì io sono con voi lui è con noi anche in una relazione intima ovviamente però l'unione fa la forza vero? ecco e quindi stando insieme aumenta aumenta esponenzialmente la presenza sua come si potrebbe dire modernamente aumenta il campo di forza sì e quindi aumenta cosa? la presenza dello Spirito Santo e quando lo Spirito Santo è potente fa un lavoro straordinario perché se abbiamo ancora delle ombre le porta a su e noi le vediamo siamo coscienti e possiamo sanarle il fratello la sorella allora iniziano a fare una liberazione in nome di Gesù Cristo sono qua nel giardino dove vivo e quindi per dirvi che ho fatto questo incontro per parlare delle cose meravigliose e oggi lo Spirito Santo mi sta spingendo a parlare poi del discepolato sì dei discepoli che il Signore Gesù Cristo mi ha fatto incontrare quello che sto vivendo come sto crescendo con loro guidati dallo Spirito Santo e adesso vi saluto rapidamente anche perché poi ci sono lavori di costruzione qui intorno e in questo momento l'odio a Dio ha cessato se non potevo proprio parlare dal rumore forte e adesso vi saluto con questo meraviglioso che il Signore mi ha messo nel cuore di condividerlo con voi la luce del Signore splenda sulla tua vita e su di te scenda la grazia e la potenza del suo Spirito Santo d'amore e su di te scenda la potenza del suo Spirito Santo d'amore che tu tenga una giornata splendida al servizio dell'Altissimo nella gloria dello Spirito Santo inviato potentemente grazie a Gesù Cristo che è salito al Padre dopo aver dato la vita per noi parleremo anche più approfonditamente di questo sicuramente molti che stati ascoltando tu che stai ascoltando lo sai ma ci sarà qualcuno che ha ancora un'idea differente rispetto a quello che il Vangelo ha detto perché molte cose si stanno dicendo favole come dice il Signore negli ultimi tempi saranno raccontate molte favole e ci sarà l'apostasia che Dio vi benedica ti benedica e ci sarà